Sono stati la proloqua della Valle Antrona insieme all'ente parco i promotori di un'iniziativa davvero particolare per il nostro territorio, la nascita del gruppo folcloristico del parco naturale Valle Antrona. È una data storica per la Valle Antrona, si uniscono i quattro gruppi folcloristici della Valle, comuni di Antrona Schieranco, Seppiana, Viganella e Montescheno. Si uniscono nella pace e nell'amore di questo territorio insieme nel gruppo folcloristico del parco naturale della Valle Antrona. Questo è un valore aggiunto sicuramente per tutta la Valle e sicuramente anche per la provincia che potrà contare su un gruppo di eccellenza. L'esigenza è nata soprattutto per mantenere queste tradizioni e preservarle proprio nel tempo, i loro costumi, perché man mano che si andava avanti si rischiava di perdere quelle bellezze, quelle tradizioni che invece con questo gruppo sicuramente andranno preservate nel tempo nel migliore dei modi. La giornata è cominciata con una messa presso la chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Seppiana, celebrata dai parroci Don Massimo Bottarell, Don Antonino Visco, Don Luigio Tramonti, Don Saverio Unlamotil. La messa è stata accompagnata dal colo Andolla. Creato anche un gonfalone per contraddistinguere questo nuovo gruppo folcloristico. Il gonfalone si basa sul simbolo del parco, il simbolo della farfalla centrale del parco naturale della Valle Antrona con la scritta emblematica del gruppo folcloristico e in fondo diciamo il gonfalone c'è le scritte dei comuni di Antrona Schieranco, Seppiana, Viganella e Montescheno a cui appartengono i gruppi folcloristici. Grazie